ciao a tutti i spippoli siamo qui in animal crossing new leaf welcome amiibo sono con artù e sono qua a vedere e qua a che punto è il debito preleva scambio ah non c'è niente onde per cui non ho fatto nessun accordo con imnuk e andiamo a fare l'accordo con imnuk a spendere altri soldi ma che stiamo scherzando ciao imnuk allora siamo pronti a espandere la stanza di sopra si vai benvenuto c'è c'è congratulazione e rimborsi all'intero presto per lo sgabuzzino niente paura non ci sono interessi nascosti voglio solo guardarti quando vorrei esplodere sì va bene adesso lo facciamo un nuovo vai ingrandiscila sì no voglio allargare la stanza sopra primo piano infatti 498.000 stelline si a fare fatto in mamma mia ci svena ci svena andiamo ok avevo iniziato a registrare e non mi era accorta che avevo avuto il tasto rec quindi ho fatto un sacco di cosine ci sono piazze vabbè non importa giochiamo lo stesso continuiamo la vita di artù e andiamo intanto a fare il classico riconoscimento dei fossili non c'è nessuno in però dico nella piazza chi è siamo noi non ti non ti preoccupare siamo sempre noi allora esami a fossile vabbè qui e qui vai siamo solo due oh quante cose vabbè poi ci dirà come sempre che ce l'ha già bla 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 dai dai ormai la sappiamo a memoria questa frase donna no che donazione non ho premuto la velocità è andata a farsi friggere è andata a far friggere la conversazione ok allora visto che è il periodo di fifonio andiamo a vedere se c'è qualcosa da acquistare cioè c'è qualcosa sicuramente da acquistare e noi la prenderemo però è tu per cambiare eri da minuto buono sì sì ciao ciao andiamo andiamo correre correre ma c'è l'orologio cuore eh adesso benvenuto sì lo sappiamo che siamo al primo piano come se non ci fosse vabbè estate allora vediamo vediamo serie brividi c'è la cassettiera qui c'è qualcosa? pavimento cucina no va bene poi qua teppeto brividi lo vogliamo dacci dacci sì cappero caruccio eh però babbana muro cuore no qui muro rosato no e poi prendiamo anche il mobile mi sembra che ce l'avevo però vabbè lo prendiamo va bene ciao e come lo prendiamo ho visto che siamo così belli vogliamo vedere su cosa c'è la griffa ah c'è tutta la serie biscotto c'è anche il capello da strega allora ora me ne ritorno verso casa no non volevo andare a casa volevo cambiare la pettinatura da Artù era da tanto che non prendevo Artù ho salutato un personaggio mi ha detto è da tre mesi un'altra addirittura sei mesi vabbè perché non l'avevo salutata era Greta cosa Greta è molto pignola andiamo andiamo a fare i capelli a Artù andiamo bigodina ho comprato un nuovo map che ingegno inventa loco non te ne sei accorto sto entrando è l'ultimo vi trovate tecnologico fate dei attivamenti di bellezza promette di tour dei più clienti a contatto colovate finalmente posso offrire ai miei clienti loco ancora più estremi ok allora io mi metterei qui sono pronta dimmi tutto su cosa vuoi che mi concentri oggi l'acconciatura vai 3000 stelle modica proprio modica cifra di 3000 stelline proprio ce la regala vai siete un po' troppo carucci in questo in questa città pozza tesoro allora andiamo con le mie casual comodissime per ogni occasione allora entriamo nello specifico poi vedici luca sbavazzino o ribelle sbavazz alla moda dai andiamo alla moda ancora un ultimo accordo a dove le stili alla moda perché ti piacesse un modello da seguire per gli altri o poi al contrario se vi cerco di un luca frido distaccato un po' snob no 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 modello da seguire ah non sto facendo cose a caso non vengono perfetto sono appena l'acconciatura meraviglioso adesso devi solo scegliere il colore che tipo di cose ti ispira di più naturale vai abbiamo una vicca gamma di colori naturali che vanno nel neocovina al biondo platino che tonalità ti piacerebbe vai di biondo platino vai che te ne parli di questo livello di intensità va bene perfetto ora che so esattamente cosa vuoi cominciare subito con la tua trasformazione andiamo faccio i capelli wow fighissimo straganzo ci piace ci piace grazie grazie adesso togliamo subito il cappello perché gli sta questa cartinatura ci piace un sacco a me piace togli dalla testa ci starebbe bene un bell'occhialone ciao adesso faccio questo per il look vediamo anche il nuovo look di Artù adesso andiamo da Goefield e vediamo se c'è qualche altro abbigliamento l'occhialone molto cool molto trendy ciao prego accomodati si allora c'è i pantaloni dei supereroi la giacca no non mi piace niente quindi tengo il vestito a basket andiamo di qua occhiale occhiale ci vuole un occhiale un po' fashion ecco c'è la maschera brividi questa non mi sembra da donna intanto è davvero un'ottima scelta siete maschere fantasma vabbè intanto questa prendiamola che sono utili le maschere si fa vedere si tratta di una montatura ovale questo tipo costa vabbè si vai lo compro compro montatura ovale vai indossa yeah ecco yeah va bene se cercava la nostra molto cool e abbiamo fatto acquisti shopping per il nostro Artù benissimo oh vai allora io adesso andrei qua sotto ritornerei da alpaca andrei da alpaca aspetta quindi metto un'altra maschera che è metto a terra ok allora vado a vendere cosa avevo detto i due fossili e poi basta cappello me lo voglio tenere allora compro le mie cose sì allora vorrei venderti questo questo come brividi no e questo no va bene perfetto spesso fior fior di quattrini per fare il comobili 9000 stelline perfetto questa è stata una buona entrata e andiamo andiamo verso casa cerco di ristrutturare un attimo il piano di sopra vorrei fare tutta la parte brividi un po' dura però si può fare andiamo 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 di qua di qua di qua su giù giù correre verso casa corre ancora qua a casa di Artù eccola entriamo allora il piano di sopra dovrebbe essere ancora allargato no infatti avevo fatto tutto quello invernale però scarafaggio via questo 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 e questo come ho brividi modellino imno coloro ombrello alberello volevo dire ombrello scabello fungo ok cappello con cuffie perfetto chiudi allora questo usa terra ok e metti in stanza perfettissimo lì qui e metto mi sposto il mobile qua e ci siamo fatto ristrutturato un attimino casa il piano del superiore aspetta un attimo fammi vedere se ho altre roba brigidi farina tappeto ghiaccio maglietta muro ghiaccio felpa bambola orologio neve napata può armadio palloncini tavolo fungo armadio fungo attacca panni fungo orologio palloncini tappeto autunno ho convinto ad avere più roba davvero armadio palloncini mi sono rimasto male pensavo ad avere molta roba di metto ghiaccio muro ghiaccio mi sono rimasto male davvero questo è un apporto via me lo vado a vendere maglietta abc bambola huaiana anche io avevo la lampada appua questa barba e babbo natale anche questo me lo vendo capello proprio d'anno rosso maglia link filpa tutta grigia e giacca abbe no no non ho proprio maschera fantasma ce l'avevo ecco tappano di fungo con una notta fiori rosa anche questo la vado a so vendere ma niente no no non c'ho proprio niente di Halloween convintissimo forse mi ricordo di Strato ovvero di Alex il mio primo personaggio e niente ci sarei ma stranale male 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 ok oh qui qui c'è una stellina magari per la prossima volta la ormai l'ho già fatta riconoscere i posti per dindiridira ciao Gino salve ci incontriamo nuovo qua qua quanto come te la passa amico chiacchieriamo vorrei approfondire la mia amicizia con Maya ma non so come al momento ci salutiamo e basta proprio non so cosa dire per parlare un po' forse potrei chiederle se vuole partecipare a un torneo di salto in alto insieme a me eh prova lei che mi ha detto prima sei mesi oh ecco ti muoverti non ti riposi mai accipicchia così prenderanno il salimento hai bisogno di qualcosa hai qualche novità vorrei tenere in casa una ribella sono iniziata ribella da vedere ma il tempo stesso di vedere va bene va bene non ho visti in giro vabbè ci penso io ma non l'ho vista in giro vai tranquilla se la vedo te la porto lo zicchio poi di qua ci sono tutti i fiori che dovevo poi annaffiare con alex allora ritorno da alpaca perché mi sembra molto tutto tranquillo qui eccola qua un'altra un'altra stellina bene tappa tappa mentre vado da alpaca però mi prendo dei frutti che non sono autotoni aspetta aspetta patto questo bambù che dà noia questo via bene vai l'ha eliminato uno solo di bambù che ho detto che volevo fare a raccattare qualche frutto che non sia il mio ovvero la pesca tre per fare un po' di soldi no questo ha il fiore per dindirindina vabbè andiamo da alpaca e facciamo l'affare vediamo quanto ci vale quello che abbiamo in tasca wow sono belli acquisti cambio look per Arthur è stato proprio un bel da fare mi caccia tu così mi piace un sacco compro le mie cose no no forse no forse sì perfetto va bene 9000 va bene va bene affare fatto e via e siamo a 62000 stelline che lascia fare grazie tanto e spero diverti presto ciao 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 soldini soldini questo pantalone ninja ecco questo lo potrei prendere lo metto in tasca ma una curiosità sono gli stessi pattern no mi sembrava strano infatti allora intanto scusa chiedo scusa a me stessa no no volevo prendere uno no così lo mancella pensavo di prenderlo mi sono fatto un torto no no pensavo davvero di prenderlo invece niente e devo andare devo andare da ora lo dico mi sa devo andare da a quefilo e vabbè allora paziente vada bernardo come stai niente a posto che bel calduccio oggi bello allora come va chiacchieriamo e guarda ho creato una capsule del tempo ora posso forse dovrei seppellire solo che se lo faccio io finirò per cadere cedere alla tentazione e la prima va bene tranquillo bernardo ci pensiamo noi certo andiamo a seminare la capsula del tempo di bernardo va bene no 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 vai 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 tranquillo non l'apriamo vai qua su questo è il posto della capsula del tempo di bernardo yeah ah di qua qui sotterra là benissimo allora io per oggi mi fermo io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e spero che vi sia piaciuto spero vi sia piaciuto anche il nuovo look di A2 se vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale Twitch dove sono Stratuxina e detto questo un mega ciao ciao a tutti e alla prossima ahhh a a a a a a a Grazie.